Ciao e bentornati ad Academy. Sono sempre Claudio e sono qui per raccontarvi tutte le novità Upower. Oggi parliamo del mondo RED che comprende le rivoluzionarie collezioni di calzature da lavoro progettate su misura per rispondere alle esigenze dei lavoratori. Oggi il mercato delle calzature da lavoro è in un trend positivo di upgrade di prodotto. Il consumatore è sempre più ricettivo e consapevole del valore della calzatura ed è alla costante ricerca di un prodotto più qualitativo, più evoluto, migliore rispetto a quello che sta utilizzando e quindi è propenso a fare una scelta in upgrade per la sua prossima calzatura. Il mondo RED è un programma di collezioni nate e sviluppate su tecnologie e concetti di ultima generazione che hanno come obiettivo di soddisfare questa esigenza di mercato in upgrade. Mentre i competitor inseguono i prodotti di riferimento e di maggior successo Upower anticipa nuove soluzioni in linea con il trend di mercato, racchiudendo nuove tecnologie e materiali, innovazione nei concetti di funzionalità, di comfort e di design. Ma parliamo del mondo RED. Ti presento REDUP che rappresenta la prima naturale proposta per l'utente. REDUP, grazie ad una suola di ultima generazione con tecnologia iRebound in elasto pan di BASF, ti restituisce oltre il 40% di energia su tutta la superficie del piede. Le proprietà di comfort vengono considerevolmente aumentate rispetto ad un prodotto tradizionale, il tutto integrato in una calzatura dal design attuale accattivante e alla moda. Perché quindi continuare a scegliere un prodotto tradizionale della concorrenza quando REDUP è una soluzione vantaggiosa in upgrade e in rapporto qualità prezzo? La seconda soluzione che vi propongo è la REDUP Plus, una scarpa polivalente ideata per coloro che svolgono lavori sia su postazioni fisse che in continuo movimento. Questa calzatura integra le nuove soluzioni di restituzione dell'energia oltre il 40% in più con l'aggiunta di un inserto antifatica in elasto pan di BASF nella zona del tallone. REDUP Plus è ideale per tutti gli ambienti di lavoro che richiedono reattività nell'attività dinamica prolungata e un comfort superiore nei momenti di attività statica. REDUP Plus è una soluzione dal design sempre compatto e attuale. Infine parliamo dei top di gamma due power presentando le specialties. Calzature da lavoro ideate per chi volesse sfruttare a pieno i principi di restituzione di energia e di antifatica legati ad una funzione lavorativa specifica del lavoratore in grado di elevare il concetto di calzatura da lavoro. Tra i prodotti top di gamma troviamo RED Carpet, la calzatura specificatamente sviluppata per massimizzare le proprietà di antifatica legate ad attività statiche studiata per tutti coloro che sono chiamati a lavorare per tante ore in posizione eretta senza potersi sedere o cambiare posizione e che con il passare delle ore sviluppano senso di affaticamento dovuto allo stare in piedi. Il segreto è nella sua anima realizzata in una mescola rivoluzionaria di BASF totalmente priva di sostanze nocive utilizzata per i tappetini antifatica in grado di assorbire e alleviare lo stress corporeo e di stimolare e riattivare la circolazione sanguigna, dare sollievo alle articolazioni ai lombi e alla cervicale garantendo alte prestazioni in termini di comfort, equilibrio e distribuzione degli shock in ambienti di lavoro. Chiudiamo con RED LION, la più famosa linea di calzature da lavoro in commercio. Adatta a tutti, ma soprattutto a coloro che lavorano in continuo movimento. Il PLUS intersuola in soffice PU con l'innovativo inserto in INFINERGY di BASF. Ma cosa è INFINERGY? Un materiale composito di BASF che nasce per il mondo del running utilizzato da UPOWER per la creazione di scarpe da lavoro che restituiscono energia ad ogni passo, migliorando il livello delle prestazioni lavorative. RED LION non è solo una semplice calzatura da lavoro, ma l'unica soluzione in commercio in termini di comfort, reattività e con effetto defaticante da mattina a sera. Quindi ragazzi e ragazze, scegliete sempre dispositivi di protezione adatti al vostro lavoro. Scarpe da lavoro, ovviamente UPOWER, ben allacciate e se ti è piaciuto il video, leggi l'articolo, condividilo sui social o lascia un commento per richiedere informazioni. Non attendere il futuro, ma indossalo con i prodotti UPOWER. Grazie per la visione!